Signore e signori buonasera, benvenuti alla Casa Italiana Zerilli Marimodo della New York University. My name is Stefano Bertini, I'm the director of the Casa. We are truly delighted to have a chance to have here tonight the New York premiere of La Stoffa dei Sogni, and it's the new film by Gianfranco Cabildo that we have the fortune to have here with us tonight. As you might have read in the invitations that we send out and on our website, it's a film that is an extraordinary combination between cinema and theater, and another extraordinary combination between William Shakespeare and the great Eduardo de Filippo. It might sound strange at first. It's going to be very natural and the right thing to do once you see the film. As we normally do here, we don't say much more about the film before you have a chance to see it, and we prefer to give you a chance to entertain a discussion with the director immediately after. So stay for the Q&A, and I asked my good friend Valeria Orani to moderate the Q&A. Valeria is based in New York, but she has a double life like many of us, and she's also a theater producer in Italy and she has known Gianfranco for a long time, so I thought it would be the perfect chance to put them back together on a stage. I hope so. And therefore, we'll have the fortune that the moderator of the Q&A is also a good friend of the director and somebody who knows his work and has known his work for a very long time. And in her own right, Valeria is doing extraordinary things here in New York, especially promoting Italian playwrights, and she also continues her activities to produce theater in Italy. So it's a great small panel after the screening of the film, and before I ask you, Gianfranco, if you want to say hi or anything. No, I say thank you to all the people to come here. My English is not very good, but the only thing I want to say before the screening is that this film for me is a piece of my heart because he is dedicated to my master. I work with Eduardo for five years when I was young, very, very young. I don't understand anything about the works, but when I become I grew up, I understand more that he gave me without teaching. So I hope to enjoy the film, and then after we can discuss together about it. Please welcome again Valerio Rani, Gianfranco Cabiddu. We'll see you for the Q&A. Thank you and enjoy the film. I need questions. What was the connection with Sardinia? They made some reference to Sardinia. There was one character that said you speak differently like you're in Sardinia. Quale è la connessione con la Sardinia? Ah, it's a long story. It's a long story I tell you. Hi everybody, I'm translating what the director is saying. I can't speak English, but it's better to... Ok, io ho avuto la fortuna di lavorare con Eduardo de Filippo, il drammaturgo, quando ero un ragazzo. He's had the fortune to work with Eduardo de Filippo, the dramaturg, when he was a young man. E ho lavorato con lui per cinque anni. In questi cinque anni lui ha tradotto La tempesta di Shakespeare in napoletano. He's worked with him for five years, and in those five years he translated The Tempest by Shakespeare in the napoletano dialect. Yes. E poi l'ha voluta incidere in audio, e io ho registrato con lui. E lui era già molto vecchio, aveva 84 anni, per cui il lavoro è durato molti mesi. Quindi questo testo mi è rimasto dentro inconsapevolmente per tanto tempo. Poi dieci anni fa l'isola dell'Azinara, che era un'isola a carcere in Sardegna. La Calcazzale, è proibita a tutti, non si poteva andare. Non puoi andare lì, è proibito. È diventato un parco. E io sono andato a visitarla come un turista. E quando sono arrivato lì mi sembrava di essere nell'isola di Shakespeare. Perché è rimasta per 120 anni fuori dal mondo, per cui c'erano animali liberi, i cinghiali, gli uccelli, e quindi sembrava un luogo terribile e magico allo stesso tempo. L'isola è rimasta per 120 anni, quindi quando è arrivato lì c'erano animali, e era in un stato naturale naturale, e sembrava terribile e magico allo stesso tempo. Ma la Sardegna e quest'isola mi sembravano adatte proprio alla tempesta, perché quest'isola prima era abitata da dei sardi, che nell'Ottocento per fare il carcere sono stati portati via dal loro villaggio nell'isola. L'isola sembrava il momento perfetto per fare la tempesta, perché prima si era abitata da sardegni, che si sono stati portati dall'isola per tornarlo in una città. E quindi mi sembrava che le parole che Shakespeare mette in bocca a Calibano potevano essere esatte per un sardo a cui è stata portata via la sua terra. E anche quello che dice Shakespeare della lingua era adatto, perché il sardo è una lingua completamente diversa dall'italiano. e questa è anche la ragione per cui io non ho messo sottotitoli per il sardo. E' also the reason why he didn't put supertitles under the words of the character. È enough. I have a long story. We have a question in the back. I'm going to say the question both in English and in Italian. So, quindi la mia domanda è secondo lei cosa ha visto Eguardo nella tempesta? Perché proprio nella tempesta tra tutte le opere di Shakespeare? La mia domanda è cosa, secondo te, che vedo Eguardo nella tempesta adattare in Neapolitan tra tutte le cose di Shakespeare? La mia domanda è una buona domanda. Buona domanda. Io penso, penso, perché allora ero piccolo e lui certo non me l'ha detto. Perché non diceva niente di quello che faceva. Io penso perché sia l'ultima opera che ha fatto Shakespeare ed è stata anche l'ultima opera che ha fatto Eguardo, da un lato. So the Tempest was the last play of Shakespeare and it was also the last play of Eguardo de Filippo. E poi perché racconta un po' anche il mondo della fantasia del teatro e anche la rinuncia al potere del teatro. Quindi è un tema per un uomo di teatro così grande, avanti con gli anni, molto sensibile. So the Tempest tells the story of the magical world of theatre and also the leaving the throne, leaving power to the upcoming generations. So that was, he thinks it was his tribute to the theatre, the theatre world. Siamo fortunati per venire qui, grazie a Franco Piersanti, nostro grande amore. Ah, I love him. Sì, Franco Piersanti is the musical, who have made the music of the film. I work with him a lot of film, true film. E un romano, sì, sì, sì. E ho lavorato molti film con Franco. E ha lavorato molti anni con Franco. E ha la delicatezza di scrivere una musica che non invade lo schermo ma accompagna insieme ai rumori. Che è la mia idea, un po' di uso nella musica per il cinema. E ha una sensazione molto delicata di scrivere una musica che va con il film e non prendere il film. Non prendere il film. Non prendere il film. Ma dovevo parlare in italiano, quindi a Adriana posso tradurre per tutti. Ma anche perché Gianfranco mi capisce molto veloce. Prima di tutto grazie. perché da Sarda e da donna di teatro da tanti anni qui c'è proprio il massimo del sentimento che una persona come me possa ritrovare nella propria vita quindi è un ringraziamento personale Valeria sta ringraziando il direttore personalmente perché come sardiniano e come una donna di teatro ha trovato molti temi della vita nel film è una grande responsabilità degli interpreti che sono tutti riconoscibili anche come artisti di teatro non solo come di artisti cinematografici in Italia la mia domanda è difficilissima credo la mia domanda è molto difficile perché come sei riuscito a rendere la vita del teatro così bene in cinema? come potete tradurre la vita del teatro in un film così bene? she is my friend for many years she gave me that no, io ho avuto la fortuna di lavorare oltre che con Edoardo, con Carmelo Bene e altri quindi ho visto il teatro da dietro le quinte e una cosa che ho capito da Edoardo è che la cosa più importante per lui era il pubblico che era anche la cosa più importante per Shakespeare per cui la cosa importante era riuscire a comunicare non mettendo se stessi in prima persona ma avendo questo filo diretto col pubblico nel caso di questo film mi ha aiutato proprio l'isola perché non ci sono alberghi, non ci sono ristoranti quindi vivevamo tutti insieme tutta la truppa e tutti gli attori cucinava il capo elettricista, poi il costumista e allora gli attori perché alcuni di loro sono delle star in Italia giorno dopo giorno perdevano un po' di tutto quello che si portano intorno e quindi era più facile farli entrare dentro una storia perché gli attori non chiedono altro che giocare il gioco del teatro e spesso invece sono costretti a fare loro stessi come caratteri dentro una storia e molte volte sono solo chiedono di farlo loro stessi dentro di un carattere in una storia allora in questo posto fuori dal mondo e con Shakespeare come rete di salvezza per un funambolo che sta su un filo era facile quindi in questo caso, in questo caso, a fare in un'isola che era outside of the world, to play this role of equilibrous on a tightrope era facile con Shakespeare e Shakespeare e Shakespeare was helping with the safety net underneath all of that project I'm just curious have any of Shakespeare's plays been translated into the Neapolitan dialect and played on the stage in Naples? I don't know I don't know I don't know So the question was for the audience he asked if Shakespeare plays were translated into the Naples dialect and played on a stage in Italy I produced the Hamlet in Naples, in Napolitania yes and it's not usual but there are some examples and also because the theater of Shakespeare is very very understandable by the Napolitanian theater it's very connected I don't know I don't know I don't know la cosa importante del lavoro di Eduardo nella sua traduzione the important thing of Eduardo's work in his translations e che la sua traduzione è una traduzione fatta per essere recitata per il palcoscenico non è una traduzione di un intellettuale su un testo classico so his translations are a translation for actors to be played on a stage and it's not literal it's not directly involved with the academia word by word translating word by word he went along with what the actors would do e quindi è importante che quando c'è lo switch che cambiano e vanno nella loro lingua anche uno che viene preso dalla strada può recitare so it's important in the movie when there's the switch where the actors change from Shakespeare words into the street language, the Naples dialect is that anybody could play that role was there a lot of improvisation on the set with the actors or did they follow the script, the copione? so he asked if there are many improv on the script I was just referring to the audience you told me in English it was for the audience no, I become from... no, no, in Italia I have it too, in Italia e io vengo dalla musica he comes from music quindi amo l'improvizzazione però dentro una struttura definita so he loves improv, but inside of a frame quindi quando faccio un film cerco di lasciare la porta aperta perchè qualcosa succede lì con gli attori però devo sempre stare molto attento perché io ho l'idea del film dall'inizio alla fine e loro invece potrebbero andare un po' fuori per cui bisogna tirare le briglie come a cavalli però una volta scelti gli attori poi è più facile anche improvvisare e ritornare dentro il testo e una volta che mi fido di quegli attori poi riesco ad andare avanti abbastanza bene but once he knows his actors it's easier to manage that role because he trusts the actors and he can bring them back and they trust me and they trust him did you select a lot of Neapolitan actors or did some of the actors have to learn their lines in the dialect? no, no ah, vuoi tradurre per gli italiani in italiano l'audience I don't know if everyone has heard the question he asks yeah, ok, great ok no, quelli che parlano di Napoletano sono Napoletani ma sono di diverse generazioni del teatro napoletano so the ones that are speaking on Napoletano Naples dialect they speak from different generations sì, i giovani sono diventati famosi con un film che si chiama Gomorra che adesso c'è la serie TV so the two young actors are famous for a movie called Gomorra for which now we have a television series invece il vecchio è uno che ha fatto teatro per molto tempo adesso è il protagonista dell'ultimo film di Gianni Amelio è un grande attore di teatro napoletano the old one comes from the theater world and now is the protagonist of a movie of Gianni Amelio Gianni Amelio The Tendernest is just now Sergio Rubini è pugliese ma da bambino suo padre aveva una compagnia dilettante che faceva nel teatro di Edoardo De Filippo in casa Sergio Rubini è stato difficile farlo lavorare proprio sul bilico tra la citazione di Edoardo e la recitazione che doveva fare ma lui credo che abbia fatto una delle cose più belle da tanti anni a questa parte so it was hard to keep him on the edge between the word of Edoardo and his role but he's done beautiful work for me I'm wondering what the budget was so and so perché eravamo tutti lì e quindi lì non arrivava niente anche un cacciavite bisognava andare a prenderlo so she's asking if the budget for the movie was high or low and she was imagining that on the island it would cost less to do the movie and he said that it actually costs more because everything that you need you have to like go ask for it and they have to ship it il film credo sia costato perché noi non sappiamo mai quanto è costato veramente il film so they never know how much the movie cost i produttori dicono che è costato un milione e mezza ma io penso di averlo fatto con meno di un milione ok so the producer said it costed like a million and a half and he thinks that oh two million sometimes they say two million sometimes it depends he thinks he did it for less for a million less than a million no è un copione a cui anche gli attori hanno subito aderito per cui sono venuti non con le solite paga che prendono questi attori it's a script that the actors who were involved loved so they came to the project without having to request the usual budget that they usually ask for però abbiamo avuto molti problemi per farlo uscire in Italia they had a lot of distribution problems perché tutti al cinema appena sentono Shakespeare si spaventano tutti perché tutti al cinema appena sentono Shakespeare si spaventano tutti e quindi il produttore ha trovato difficoltà per trovare una distribuzione per cui siamo usciti proprio nel periodo più difficile per un film come questo sotto Natale perché a Natale ci sono tutti i film comici quindi avevano praticamente sistemato il film che rimaneva una settimana solo nei cinema ma il film ha resistito col passaparola è rimasto cinque settimane e poi sono arrivate nove candidature a Davide Donatello che è l'Oscar italiano e poi hanno avuto Davide Donatello a nove nominazioni che sono gli Oscars dell'Italia e ne abbiamo vinto una per lo script e dopo questo il produttore mi ha detto se voglio rifare un film con lui dopo questo il produttore wanted a lavorare con lui ancora e poi e poi l'Oscar 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 I've won the platinum prize, so I hope to find a production company a little bit, come si dice, che ci crede. Strong. A strong production company that believes in the project that you are making. Sì, sì, sì. Ah, mi sono dimenticato di dire una cosa. La parte finale è quando c'è la canzone, sui titoli di Coda. E' proprio Edoardo che canta la canzone di Calibano. Io suonavo la chitarra e lui cantava. E poi il musicista ha messo intorno, quando Edoardo non c'era più, è morto, ha messo intorno la musica. E quello che dice, la ragazza è giusto perché poi questo testo è stato messo in scena dai detenuti del carcere di Re Bibbia in Italia, i detenuti di massima sicurezza. E questo, quello del carcere, era un progetto che voleva fortemente la moglie di Edoardo. Ed era supportato anche dal figlio di Edoardo, che è Luca De Filippo, che è morto un anno fa, che nel film è venuto a fare il capitano, quel saluto a quel mondo che io ho raccontato. Quello è il figlio di Edoardo. E' stato supportato anche dal figlio di Edoardo Luca, che è morto un anno fa, che nel film è il capitano. Quindi per me è anche un po' dedicato a Luca. Quindi il film è anche un po' dedicato a Luca. Un'ultima domanda? L'ultima domanda? L'ultima domanda? No, torniamo al costo del film. Per me non entra per niente. È stupendo. Non c'è un senso quanto costava quando veniva il film. L'ambiente è stupendo. È vero? Per me non c'è un senso. C'è un senso. Non ho tagliato. Non ho tagliato, questo è un senso. Non ho tagliato. Non ho tagliato. Sì l'unica, veramente, cioè una cosa importante è che ho fatto veramente quello che volevo fare, proprio perché nessuno ci credeva. Quindi l'importante è che è veramente fatto quello che voleva perché nessuno credeva in lui, quindi… Non ci sono altre domande? Se non ci sono altre domande vi posso salutare con una cosa che dicono normalmente nella tradizione italiana i teatranti. Oh, un'altra domanda. Sì, chiede se gli scrittori napoletani stanno facendo del nuovo lavoro sia per la tv o per il teatro. Ma ci sono cose importanti che stanno succedendo. Napoli è molto viva. Ci sono molti cose importanti che stanno succedendo in Naples. Naples è molto vivente. Adesso proprio Martone farà per la televisione delle puntate sulla vita della famiglia Scarpetta di Filippo all'inizio tra l'Ottocento e l'inizio del Novecento proprio sul teatro. Mario Martone. Mario Martone now is doing a series for TV about the Scarpetta family. Sì, Scarpetta e Filippo. E poi HBO sta per iniziare una serie dai libri di Elena Ferrante. HBO is doing a series from Elena Ferrante's books. E qui a New York il teatro di Edoardo è stato messo in scena da John Turturro. Qui a New York il teatro di Edoardo De Filippo è stato messo in scena da John Turturro. che è stato uno degli attori che io ho cercato per fargli fare la parte di Calibano proprio perché era fuori. Era uno degli attori che ho cercato per fare la parte di Calibano. Però era impegnato. Ma era iniziato. C'è un post al sole. Ah, c'è anche il post al sole. Ok, allora per saluto vi vorrei fare questo saluto. che fanno i teatranti, quelli proprio insomma di Bassa Lega. Se il film vi è piaciuto ditelo a tutti i vostri amici. Perché sarà nuovamente qui a New York il 20 al MOMI. It's gonna be here in New York again on the 20th. Perché è una rassegna New European Cinema. There is the new European Cinema rassegna. Sì, tutto è una rassegna di film europei, nuovi film europei, il 20 di maggio. They play all of the European movies. They're gonna do it on the 20th of May. You can find all of the information on the website for the Istituto Italiano di Cultura. Quindi, se vi è piaciuto, scrivetelo su Facebook o ditelo a tutti i vostri amici. If you like it, put it on Facebook and tell all of your friends. Se non vi è piaciuto, ditelo a tutti i vostri nemici. If you didn't like it, tell it to all of your friends. Che magari sono di più degli amici. Maybe they're more than the friends. Ma mandateli tutti a vedere il film. But please send them to see the movie. Okay, thank you. Grazie. Grazie.